ciao a tutti e benvenuti siamo qui oggi con una velocissima mini guida su kirby e la terra perduta dove con il nostro postino di fiducia vi andremo a mostrare tutti i codici che dovete riscattare per ottenere dei premi che sono soldi o altra roba vediamo a noi ne abbiamo riscattati già forse due o tre inseriamo lo stesso però lì non possiamo prendere il premio perché sono quella demo abbiamo riscattato subito più quello obbligato del tutorial iniziamo la quale il primo codice adventure guide ok ricordate che i codici si possono utilizzare dovete scrivere sempre in maiuscolo perché sennò non ve lo conta valido quindi dovete fare così semplicemente cliccare due volte sulla freccia impostare così in maiuscolo e scrivete e siete importati e potete scrivere anche con il touch ecco il primo codice il codice sta accettato davanti casa tua poteva consegnare qui questo c'è infatti la cosa un po ballosa e che non si possono accumulare dove andare a prenderlo ogni santa volta abbiamo ottenuto una pietra speciale prossimo codice codici sono tutti iscritti in descrizione il prossimo e brawling colosseum ok eccolo bene andiamo a casa a cui abbiamo ottenuto un pacchetto dei soldi anche una forza extra ma così vero li perdiamo se vabbè mando noi abbiamo fatto il giorno c'è infatti noi l'ultimissima cosa poi il prossimo questo però noi già l'abbiamo ottenuto e colora della demo gli ardemo perché con la demo potete sbloccare due codici vabbè in pratica se fate la demo al cento per cento vi danno questi due codici da riscattare di questo l'abbiamo già usato lo sappiamo il prossimo codice pure questo già l'abbiamo preso ovvero first password di queste colla proprio del tutorial ok prossimo codice game news una bella pietra che prendiamola sempre prossimo codice il b news desk ha una bella medicina prossimo codice il big game stop ken un'altra cosa è un'altra cosa più intelligente dacci le cose in mano senza preparare tutto questo pacchetto ogni volta prossimo codice il b micro site ha ancora un'altra cosa d'attacco e 150 monete prossimo codice il b storie questo forse l'abbiamo già scattato mi sembra di sì di questo già riscattato quindi prossimo codice il b de gourmet benissimo il codice valido da 20 punti vita che abbiamo il il pomodoro quindi prossimo codice mouth full mode bene bene ancora dolce macchina prossimo codice new adventure questo pure mi sembra che l'abbiamo già riscattato noi prossimo codice thank you kirby a questo è un bel pacco a mille euro è una pietra rara prossimo codice thank you metanite questo è l'ultimo sì però questo è il migliore ci credo metanite miglia e kirby ed eccolo qua l'ultimo pacco include ben tre pietre ma anche un euro sto metanite un po spi d'orge beh però tre pietre diciamo sono codici utili e non perché diciamo i soldi un po possono servire roba varia ma niente di incredibile comunque a inserirli non ci perdete nulla dieci minuti più o meno un minuto a codice ma però fatelo prima di finire il gioco non come noi diciamo è meglio farlo prima si ha preso tutto per quanto riguarda i soldi ok finisce qui questa mini guida fateci sapere se i codici vi sono tornati utili e come sempre invitiamo a lasciare un like condividere e iscrivervi alla prossima